Emanuele Bardelloni una grande vittoria oggi anche con l'assenza importante della tua spalla principale che è Sasa Bruno. Un bellissimo gol che ti sei sbloccato, primo gol in campionato. Sì dai sono molto contento, sono contento per aver portato a casa questa vittoria perché per noi è importante. Siamo contenti perché è tornato Pinardi appunto che ci dà spessore al centro campo, ci dà il gioco. Sì mi dispiace per Sasa Bruno però dai lo aspettiamo. Io sono più forte di Bruno. Una bella partita, hai fatto anche oggi, hai protetto bene, hai tenuto da solo quasi tutto l'attacco. Sì dai abbiamo fatto una bella partita, abbiamo preparato bene in settimana, sono veramente contento. Quattro punti, abbiamo risalito un pochettino in classifica, metà classifica. Sì dai adesso non bisogna guardare la classifica ma bisogna continuare su questa strada, sul gioco di oggi, sulla prestazione di oggi. Bisogna continuare così. Va bene, Emanuele grazie. Grazie a te.